Ben tornati amici di AFTV, siamo nel gazebo della villa comunale con due fantastiche persone, prima che grandi professionisti. Siamo qui con Antonio Silvestre che è regista del film La stagione dell'amore e con Mario Tani che è il produttore. Allora Antonio, parlaci un po' del film dai persommi capi. Dunque buonasera a tutti intanto. Dunque La stagione dell'amore è un cortometraggio di circa 20 minuti, è una storia che parla di tradimento, racconta le vicende di Alessandro e Sonia a tre giorni dalle loro nozze. Il nostro Alessandro è uno sciupa femmine impenitente nel classico cliché della commedia all'italiana in cui una donna abbastanza ingenua non si accorge delle Marachelle che fa questo avvenente professore universitario e lui in questi tre giorni lo vediamo alternarsi nei vari letti di tutte le donne coinvolte all'interno di questo matrimonio. I protagonisti del corto sono Simone Corrente, Serena Rossi, Sara Felberbaum, Claudia Potenza, Vincenzo De Michele, Anna Dalton, lui mi aiuta perché me li dimentico sempre qualcuno, Giuseppe Policelli, Ivano Lotito, Madarena Zoppoli, Giovanni Vaccaro. Insomma è un cast comunque piuttosto importante ed eterogeneo per un cortometraggio. Siamo riusciti a coinvolgere attori di nome per un lavoro così piccolo grazie all'amicizia maturata in questi anni sui set che abbiamo diciamo vissuto. Io sono un aiuto regista, ho legato il mio nome a registi come Giorgio Capitani, Massimo Spano, Giacomo Campiotti, Stefano Reali e ovviamente ho conosciuto molti di questi attori sul set per amicizie anche perché hanno sposato il progetto, gli è piaciuta la storia, hanno partecipato con piacere a questa nostra avventura che abbiamo girato in Puglia lo scorso anno e per questo passo il microfono a Mario che ci racconterà più o meno come è stato riuscire a mettere su un set di un film comunque indipendente. Sì perché la stagione dell'amore è stata veramente una scommessa produttiva sin dal primo momento. Noi con MacFilm siamo attivi da, abbiamo cominciato con Antonio, facciamo università dal 96 e MacFilm è una società indipendente però abbiamo puntato sin da subito a mettere su un film che fosse non un semplice cortometraggio fatto fra amici ma abbiamo a tutti gli effetti montato una produzione paragonabile a quella di un lungometraggio. Il film è stato girato nel 2012, l'abbiamo realizzato grazie a sponsor che abbiamo trovato nel territorio della Daunia e grazie soprattutto alla partecipazione del comune di Biccari in provincia di Foggia che ci ha sostenuto sin dal primo momento. Ci ha aiutato anche la Film Commission della Puglia con un contributo finale quindi in qualche maniera abbiamo messo su comunque una produzione sicuramente importante che ci ha permesso effettivamente di tirar su un prodotto che senza dubbio si distingue dal punto di vista produttivo e artistico rispetto credo al più o meno alla media dei cortometraggi lo dico ovviamente senza nulla togliere agli altri però spesso i cortometraggi sono prodotti che si fanno a costo zero e si fanno anche un po' per iniziare ecco questo posso dire con un certo orgoglio che si può classificare come qualcosa di più. Quindi voi avete girato in digitale. Avete girato come? Cioè con che macchinari? Il film è stato girato in red e con delle ottiche Cook S4 e il direttore della fotografia Nicola Saraval d'accordo con Antonio ha voluto ovviamente mantenere una qualità molto alta perché abbiamo girato in 4k e con queste ottiche che hanno conferito però una pasta molto morbida per cui abbiamo in qualche modo compensato un po' il colore elettronico e tutta una serie di cartellistiche che il digitale ha che tende a rendere di solito un po' più freddo ecco quindi questa è stata la scelta artistica e tecnica naturalmente poi anche perché come si è detto appunto era più facile in silo poi anche in un mercato distributivo perché ovviamente ormai tutto quanto il workflow è digitale. Voi puntate quanto vedo a prodotti di qualità e non diciamo non di nicchia ecco diciamo di facile fruizione per tutti però vedete il web come una fonte di apertura nuova cioè voi ci puntate molto sul web ma sicuramente il web come il digitale sono due strumenti che hanno reso possibile quello che forse 15 anni fa 20 anni fa quando abbiamo iniziato noi era assolutamente impensabile nel senso oggi con il web puoi arrivare in tutto il mondo in brevissimo tempo la stessa intervista che stiamo rilasciando noi oggi la potete montare tra un minuto e tra un minuto e mezzo può essere direttamente disponibile su social network sulla rete su youtube e compagnia bella quindi ovviamente puntiamo anche noi alla diffusione soprattutto per il punto dal punto di vista diciamo commerciale pubblicitario è chiaro che quando immaginiamo di girare un prodotto cinematografico il luogo diciamo chiamiamolo tra virgolette sacro per la fruizione di questo prodotto è sempre la sala cinematografica quindi non abbiamo realizzato un prodotto perché venga distribuito esclusivamente tramite web o sui smartphone o su tablet o compagnia ma lo abbiamo pensato per il grande scherbo per questo anche l'idea di girarlo in 4k per mantenere il massimo della qualità allora ringraziamo i nostri ospiti grazie mille se volete fare un saluto finale a coloro che stanno guardando il servizio ringraziamo innanzitutto ariano il pino che ci ha ospitato per l'ennesimo festival di questo percorso di questo anno siamo stati molto bene la sala era pienissima quindi siamo molto contenti e insomma speriamo di vederci anche il prossimo anno magari nella sessione lungometraggi è perché no grazie a tutti grazie mille grazie a voi